...di oggi ed è stato espresso l'intendimento di elaborare una variata... Allora, ci tenete a chiarire un aspetto di questa vicenda legata alla piscina? Che voi non siete contrarre una piscina a Fano? Assolutamente no, ci tengo a far chiarezza e anche a raccontare la verità. Noi siamo a favore di una piscina, tant'è vero che domani presenteremo una mozione in cui chiediamo al sindaco, visto che il progetto esecutivo sulla nuova piscina della Trave c'è già e ha anche l'amministrazione i soldi per realizzarla, a dir la verità, la poteva realizzare già da due anni a questa parte. Oggi la può ancora realizzare, quindi chiediamo al sindaco di realizzare la famosa piscina della Trave che doveva realizzare un'azienda privata che attualmente ha fallito. Questo nuovo progetto che invece oggi l'amministrazione ci propone con un progetto preliminare ma dietro una grandissima operazione immobiliare che riguarda molti soggetti, tra cui molti privati, non ci convince assolutamente, crediamo che sia ingiusto svendere la RSA, la Residenza Sanitaria Assistita Don Paolo Tonucci di San Lazzaro per realizzare questa piscina. Ci sono diverse promesse elettorali, di fatto il libro dei sogni è molto aperto e la piscina che ci hanno promesso è solamente carta, straccia, mi viene da dire, perché l'area individuata tra l'altro oltre ad essere un'area veramente difficile a livello di viabilità, quindi di raggiungibilità perché Vieri e Comattei è una delle strade più trafficate di Fano, ha una marea di vincoli tra le quali passa nel mezzo la bretella della società autostrade e la fondazione ha detto chiaramente che se non si sposta questa bretella la piscina non si farà, quindi chiediamo subito all'amministrazione di riprendere il progetto esecutivo già pronto sulla trave e finanziarlo da domani, visto che una nuova piscina è assolutamente la priorità per quanto riguarda l'impiantistica sportiva della nostra città.